La sinistra dura e pura lo ha sempre guardato di traverso. Anche certa nomenclatura di partito aveva vacillato quando il suo nome era finito tra i papabili. Poi l'investitura è arrivata dagli elettori, elettori di centrosinistra che in maggioranza hanno scritto il suo nome e cognome sulle schede delle primarie. E Paolo Di Laura Frattura ha combattuto la sfida contro Michele Iorio con la bandiera del centrosinistra fra le mani, democraticamente come quell' elettorato gradisce. E infatti il risultato delle urne è stato chiaro, sorprendente e perfino Iorio, a urne appena chiuse, aveva dichiarato di aver recepito il messaggio da quest'altra parte della riva. Frattura è comunque arrivato là dove molti aspirano e pochi arrivano, ma quella poltrona in nome delle regole, della democrazia, della certezza di quel voto l'ha messa sul piatto della bilancia. A marzo, la domenica del 10 e il lunedì successivo, i molisani torneranno a votare grazie soprattutto al coraggio e alla perseveranza che Frattura ha avuto nel rincorrere quei valori. Oggi, e non si sa bene ancora per quanti giorni, il principale partito della coalizione ha preso a cincischiare e a parlare un linguaggio antico. Quello per capirci che tiene lontano dalle urne decine di migliaia di persone e ogni giorno quel numero cresce. Più cresce il numero dei cittadini disgustati dalla politica furba, dei sottintesi, dei tatticismi e dei sottobanco, più si passa il tempo attorno ai tavoli sotto i quali passano i contentini e si studia come e chi deve spartirsi le caselle. E così se il posto alla Camera dei Deputati traballa per affollamento si dà il via alla Manfrina. Allora leva alla Camera, ma quel posto è di ruta. Romano e Astore, i nuovi arrivati chissà, se ci state vi garantiamo che, Rifondazione si accontenta con. E in questo modo, attorno al tavolo va in scena un teatrino che premia la politica dei furbi, dei manovratori, delle piante sempreverdi. Democraticamente, come è stato fatto fino ad oggi e ripetuto fino alla noia, si riparta dai cittadini e da una certezza. Frattura, democraticamente ha vinto le primarie, quasi vinto le elezioni, vinto la battaglia dell'annullamento. Voltargli le spalle oggi, per un tornaconto personale, sarebbe vigliacco sul piano umano, suicida su quello politico.